In Italia la questione del federalismo è stata per tanti anni al centro del dibattito, del dibattito politico certamente, ma anche del dibattito intellettuale. Si è pensato a lungo che un paese così variegato, proprio interno dal punto di vista economico e culturale come il nostro, avesse bisogno di una soluzione federale che un pochino riprendesse la forma degli Stati Uniti o della Svizzera. Quindi questa idea di una riforma federale ha avuto un prestigio e un'attrazione forte per molti anni. Oggi le cose sembrano cambiate in maniera radicale, oggi di federalismo si parla molto meno, con molto meno interesse e anzi è crescente un atteggiamento negativo nei riguardi delle istituzioni locali, nei riguardi dei comuni, delle regioni. L'idea è che in definitiva una delle difficoltà dell'Italia sia la presenza di tanti recenti di spesa e che la spesa locale, la spesa regionale, la spesa comunale siano sicuramente complici della situazione. Quindi un paese come l'Italia che spende tanto, un paese come l'Italia che ha tanti problemi anche di corruzione, oggi si dice che ha bisogno di ripensare quel rapporto con l'articolazione istituzionale. Questo è vero, ma non credo. Credo che in realtà in questi anni sia avuta un'idea molto sbagliata del federalismo e sono state fatte delle riforme sicuramente a favore delle regioni, degli enti locali, ma in definitiva i cambiamenti introdotti hanno dato una certa autonomia di spesa agli enti periferici, senza però dare capacità di credivo fiscale, senza mente di relazione quindi le uscite e le entrate. In questa maniera abbiamo avuto e abbiamo enti locali, regioni e comuni in particolare che sono fatalmente orientate a spendere e non già invece a controllare in maniera razionale quello che viene fatto, a gestire in maniera attenta le proprie risorse. Il federalismo, una vera riforma federale, prevederebbe invece proprio questo, prevederebbe che una quota rilevante di quello che gli enti pubblici sottraggono alla società, quindi all'impresa delle famiglie, venga mantenuta a livello locale e che quindi ci sia la possibilità da parte dei cittadini di vedere anche una certa chiarezza all'utilizzo che viene fatto di quello che danno ai loro comuni e alle loro regioni. Questo è un primo fattore importante di una vera riforma federale. Una vera riforma federale permetterebbe di avvicinare chi appunto prelieva i soldi e chi è la spesa stessa e quindi metterebbe i cittadini in miglior condizione. Ma c'è un altro elemento che non viene spesso evidenziato e che invece mi parere è ancora più importante. In un sistema federale, c'è un sistema autenticamente federale in cui gli enti locali vivono di risorse proprie e quindi non solo spendono ma anche tassano le proprie popolazioni. Quello che ne deriva in maniera molto lineare, molto naturale è una concorrenza tra istituzioni. In definitiva noi sappiamo che sul mercato abbiamo la produzione di buoni beni o servizi a un prezzo relativamente contenuto perché c'è concorrenza, perché chi pretende di vendere a un prezzo alto, qualità scarsa viene un po' messo fuori dal mercato. In un certo senso l'ordine federale va in questa direzione. I vari comuni e le varie regioni sono costretti a competere fra di loro in un vero ordine federale. La regione Lombardia se vivesse di proprie risorse dovrebbe competere ancora piemontese e quindi in Piemonte ci sarebbe una forte attenzione a tassare di meno e offrire servizi di buona qualità. Ma perché questo avvenga è necessario appunto che si abbia un vero federalismo, non questo federalismo all'italiana, dove di fatto gli enti locali possono spendere ma non estraggono appunto dalle loro popolazioni, le loro imprese e le risorse. Quindi in sostanza a me sembra che si possa dire questo. Noi oggi abbiamo avuto un dibattito molto falsato sul federalismo perché non abbiamo mai ben capito quali erano le vere virtù del federalismo e cosa si debba intendere per il federalismo. Abbiamo pensato che semplicemente attribuire più poteri, più risorse, più capacità di spesa agli enti locali sia andare verso una struttura federale, ma non è così. Un vero federalismo implica l'autonomia autentica a partire dalla capacità di estrarre da sé le proprie risorse e di conseguenza quindi implica anche una concorrenza. Se capiremo questo l'Italia probabilmente riuscirà a ridurre le proprie spese anche a livello locale e quindi il federalismo non sarà come oggi si pensa un fattore di costo, un problema come dire ulteriore che oggi non possiamo permetterci, un lusso che non possiamo permetterci, ma potrà essere invece una di quelle strade che possono aiutare a raddrizzare in qualche modo la situazione dell'economia italiana nel suo insieme. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.